L'aeroporto di Firenze è uno dei temi caldi della conferenza stampa di fine anno del governatore della Toscana Enrico Rossi. Deciso e risoluto il presidente non si è nascosto dietro un dito e ha confermato le proprie posizioni. La variante alpite per la piana fiorentina andrà in porto solo se si costituisce una holding tra le società che gestiscono gli aeroporti di Pisa e Firenze. Senza questo presupposto, spiegato Rossi, metterei a rischio economico Pisa ed a rischio ambientale Firenze. L'adeguamento all'aeroporto di Firenze va fatto ma dentro un quadro strategico in cui Pisa e Firenze si mettono insieme per competere a livello nazionale, a livello europeo e mondiale. Questa se la si farà e la si deve fare è davvero una svolta che supera quei campanilismi, quelle visioni ristrette che sono un limite ormai per la nostra regione. Rossi ha poi fatto un bilancio sul 2012 che sta per concludersi, un anno difficile anche per la Toscana come per il resto d'Italia, con la crisi che ha messo a dura prova il sistema economico e sociale della regione che, secondo il governatore, ha saputo reggere al momento storico che sta vivendo il paese grazie anche all'apporto dei settori chiave come quello turistico e il manifatturiero. Questa è una regione che non è stata ferma, che tiene, che reagisce, che riforma, che innova. Semmai avverto la necessità di far girare di più insieme le ruote, insomma, di dedicare tempo a raccontarci quello che abbiamo fatto, a riflettere sulla spinta da darci per il futuro, per rientrare di più in sintonia come regione e sentirci più comunità. Questa è una difficoltà che avverto. Il governo Monti ha imposto politiche legate al rigore che però, secondo Rossi, da solo non possono bastare e oggi davano necessariamente essere superati da una nuova svolta nazionale nel segno di equità, crescita e sviluppo, a partire dagli investimenti. Le politiche del rigore da sole non bastano e credo che bisogna riprendere la strada degli investimenti fatti in maniera oculata, misurata, con tempi certi e accanto alla strada degli investimenti pubblici per ridare occupazione e sviluppo bisogna sostenere il credito alle imprese. Le banche sono ancora in grosse difficoltà nell'erogazione del credito, occorre che ci siano interventi anche a carattere nazionale per supportare soprattutto le piccole imprese. In vista delle prossime elezioni di febbraio, a chi gli chiede se accetterebbe in caso di vittoria del centro-sinistra un incarico del nuovo governo, Rossi stoppa determinato ogni voce circolata nell'ultimo mese e ribadisce che rimarrà a governare la Toscana fino alla scadenza del proprio mandato. Se ti hanno eletto hai fatto un contratto e il contratto lo si straccia prima, lo si porta fino in fondo e poi ci si sottopone eventualmente al giudizio dei cittadini per sapere se si è fatto bene, se si è fatto male, qualora i cittadini ritengano che sia giusto sottoporti a questo giudizio.